ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi voglio parlarvi del mio nuovo sito internet ebbene sì ce l'ho fatta ho aperto un sito internet potete cercarlo facendo www.francisart.com oppure www.francisart.it bene andiamo subito sul mio sito e vi presento il francesart sito sono felicissima di questo sito internet qua potete trovare diverse cose allora innanzitutto home chi sono quindi ho una piccola presentazione di me contatti troverete la mia mail appunto per contattarmi e poi trovate youtube dove ci sono degli articoli che ho scritto inerenti al canale quindi trovate due una sezione bullet journal dove trovate un articolo e una sezione idee regalo al momento sono queste le mie sezioni torniamo subito alla home bene qua avete in primo piano l'articolo benvenuti dove appunto parlo di me la parte dei contatti qui sotto trovate tutti gli articoli sulla parte destra del sito trovate gli articoli recenti quindi tutti quelli che ho pubblicato i commenti recenti l'archivio dove potete andare a selezionare il mese per appunto cercare i vari articoli e poi avete tutte le categorie ovviamente qua avete i miei social quindi iscrivetevi e seguite youtube instagram facebook amazon e etsy il mio negozietto che al momento è in vacanza perché finché non ho fatto il trasloco non posso tornare a creare quindi difficilmente poi posso vendere le mie creazioni se non le faccio quindi poi scorrete trovate tutti i miei articoli in fondo trovate il calendario dove ogni giorno evidenziato in rosa contiene un articolo quindi se volete andare a vederli qua ovviamente avete il l'invito di iscrivervi anche al mio canale youtube qui trovate alcuni miei video di youtube qui la mia pagina facebook e qua sotto trovate gli ultimi post di instagram con la freccia tornate pure in su bene io sono felicissima quindi vi chiedo di avvenire appunto trovarmi anche sul mio sito qua ovviamente io pubblicherò adesso cerco di pubblicare almeno un sì o almeno un articolo a settimana spero di riuscire a farcela quindi seguitemi appunto anche su internet andate quindi vi invito andare a leggere i miei articoli e a lasciarmi un commento che così possiamo interagire insieme e niente spero tanto che questo mio video vi sia piaciuto spero che anche voi siate contenti di avere finalmente la frances art anche su internet e che dire iscrivetevi al mio canale seguitemi appunto sul mio sito seguitemi sui miei social lasciatemi in commenti fatevi conoscere perché io voglio conoscervi un altro scopo appunto del mio del mio sito è quello di conoscere gente con la mia stessa passione quindi vi invito scrivetemi 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 perché io ho voglia di comunicare con tutti voi che mi seguite grazie ancora per avermi seguito io vi invito quindi a venire qua sul sito e a leggere tutto quello che ho scritto a commentare vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao